E invece qua abbiamo un ragazzo che mi dicono che sia uno tra i più veloci nel tour, o sbaglio, comunque sicuramente a livello italiano uno dei più veloci in assoluto. Come pensi di sfruttare questa tua velocità per raggiungere le vette alte della classifica? Beh, con Matteo e anche con Malte ci si scanna sempre, alla fine la velocità credo che è relativa, siamo tutti e tre molto veloci e vince alla fine chi parte meglio e chi riesce a sfruttare bene l'interno in boa. E niente, vedremo, io sono in casa mia e non voglio mollare, non voglio renderla facile per nessuno, soprattutto per Matteo, ma vediamo, sarà bello, intanto pensiamo a finire, arrivare in finale e vediamo come va. Va bene, in bocca al lupo. Grazie a tutti.